Ciao ragazzacci e ragazzacce e benvenuti o bentornati nel mio canale, io sono Net Rider ed è questo Net Rider Garage come vedete oggi sono al raduno dei cavalieri di Akashi e ci spariamo bei chilometri insieme stranamente questa volta sono arrivato puntuale grazie a Salvatore che ringrazio in questo video che non mi ha fatto fattare oh eccoci qua, i cavalieri che arrivano cominciano ad arrivare all'appuntamento anche se qualcuno c'ha sempre la moto sbagliata, ancora non ha cambiato, lui almeno l'ha fatta verde mo però andamo a fare colazione e per voi sigla ragazzacci qui stiamo aspettando ancora qualcuno e l'affare si ingrossa parecchio siamo un botto e si parte ragazzi il raduno dei cavalieri di Akashi Lombardia allora l'itinerario che andremo a fare è Polaveno, Lago di Idro, Lago di Ledro e Lago di Tenno e qui si parte per il Polaveno che io tra l'altro non mi pare di aver mai fatto speriamo che migliora l'affatto, terribile però almeno saliamo di vuota e un po' di freschetto arriva qui c'è il meglio scorcio del Polaveno e beh effettivamente non è male oh pedano a gorduro ancora pure qua sono un po' di freschetto ma lei quanto chiede dalla signorina? io sono gratis per te amore bello il percorso di qua bello eh mazza molto bello dimmi e non è il problema eh beh questo lo so grazie 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 yes non so se è accesa non è accesa? no io salutavo ma non so se è accesa ok mi sa che si non lo so ma qualche altro da scema devo farlo basta che c'è la lucina che ti ti perfetto allora stavo a registrare dite due cazzate voi dal veneto due cazzate dal veneto ormai ti ha fregato la parola nemo dai cazzo e così da marzo siamo passati ad agosto a un caldo terribile perfetto volevate la mezza stagione? no non esiste così vi imparate a fare i cattivi ecco e non fate più quello che state fanno faci due e tre quarti da la tua palazzina no non èざunto soddisfatto no, non è già già e ora ci fa non è che non è chiaro mi ha послед Damn grab pon tacci due e tre quarti da la tua palazzina Grazie Marcia, l'hai fatto per tu 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 Grazie Marcia Grazie Marcia, l'hai fatto per tu Grazie Marcia Grazie Marcia Grazie Marcia Grazie Marcia Grazie Marcia Grazie Marcia E beh, ce la mangiamo in questo posticino vista Lago di Tenno e ora mettiamo le ciampette sotto il tavolo Pranzo finito, giretto al lago, sono tutti stremati, io non sono sceso Allora ragazzi per questo video è tutto, ci vediamo in un prossimo video da i cavalieri di Akashi e me Net Rider, un saluto e ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi Ciao Ciao mamma Ciao